Questa volta i ladri non ce l'hanno fatta. Quello che sarebbe stato il terzo furto ai danni del magazzino di abbigliamento e accessori di lusso di base blu a Varano Borghi non è andato in porto grazie all'imponente sistema di sicurezza che protegge il sito che ospita showroom e logistica delle note boutique di Varese. Era passata la mezzanotte esattamente da 48 minuti quando la guardia armata che opera all'interno si accorta che era scattato l'allarme pochi secondi dopo aver notato movimenti sospetti sul fondo dell'area. La telecamera che l'uomo stava monitorando ha registrato la presenza di tre figure che avevano appena scavalcato il muro di cinta e una di loro già si stava avviando verso di lui. Quando ha visto la guardia è subito fuggita.